Sono state fatte delle modifiche, il motore di rotazione è stato maggiorato e potenziato, quindi maggiore potenza idraulica, perché? Perché quando precedentemente si lavorava non in piano ma non un po' in salita, durante la rotazione qualche sofferenza c'era. Adesso è maggiorato... È possibile vederlo? Forse di là, sopra, vedete, questo qua non è specializzato per macchine piccole, ma sopra ci stanno tutte le compatte. Quindi diciamo, maggiore forza idraulica, maggiore capacità di sollevamento, ma non solo questo, è stato inserito standard un contrappeso di 80 kg, vedete, perfettamente all'interno della trattura. Maggiore stabilità, maggiore capacità di sollevamento. Ma volendo, come optional, si può avere un contrappeso da 170 kg. Chiaramente spoggerà leggermente in fuori, questo è normale, però voi capite... 5 centimetri. Però voi capite, sì, l'altro dia, voi capite quanto si può guadagnare nel sollevamento della macchina. Col braccio lungo obbligatorio, no? Col braccio corto... Col braccio lungo obbligatorio. Col braccio corto così, col braccio lungo invece va con quella zavora supplementare da 100... Sicuramente no. Allora, poi... Però il problema che aveva questa macchina era sulla rotazione. Poi nella sezione compatte... In questa posizione, ben appiena, la macchina non saliva. Esatto. Abbiamo avuto il problema con il riempio, quindi... Bene, adesso, dopo che abbiamo visto un po' le macchine nuove, tutto quello che Polgo gli offre, la possibilità... Noi siamo...